Come si scelgono le criptovalute sulle quali impostare un'operatività di trading o di investimento di medio periodo? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi facciamo il terzo episodio del nostro corso di formazione trading crypto. Ragazzi, ho qui Ethereum davanti a me perché, al differenza di Bitcoin, oggi parleremo di come scegliere le criptovalute sulle quali andare ad impostare un'operatività, quali sono i tips, quali sono i trucchetti da trader pro per andare a scegliere quelle che sono le giuste coin. Ragazzi, invece ne sono migliaia ormai. Quale piattaforma magari andare a utilizzare per questo tipo di operatività? Un video operativo rispetto agli altri. Il terzo episodio, chi di voi non si è ancora iscritto al canale, perché non l'avete fatto? Perché metto gli occhiali di rock? Va bene, allora, scherzi a parte ragazzi, andiamo subito a ragionare su come scegliere le criptovalute su cui fare trading. Ci sono diversi modi per fare questa cosa, quindi non esiste un'unica soluzione, non esiste un'unica strategia, perciò ragazzi, oggi parliamo dei miei trucchetti personali, quelli che posso consigliare a dei neofiti del trading e degli investimenti, a chi si affaccia per la prima volta su questo tipo di mercato e vuole iniziare a fare il passetto in più, quindi non la scommessina, il gambling dell'andare a prendere la coin che fa il pump di turno, senza senso ragazzi, senza sapere quello che si sta facendo, ma vorrei un po' ragionare e dire benissimo, ma se io volessi impostare un po' di strategia di trading, un po' di operatività, sempre basic, ma all'inizio come faccio a scegliere le giuste criptovalute, quelle migliori, quelle più adatte alla mia operatività? Quindi ragazzi, questi sono dei tips, ne vedremo tre, seguiremo tre regolette per andare a scegliere questo tipo di cripto, e faremo un esempio pratico su un exchange ragazzi, e sono appunto le mie, quindi ce ne sono veramente tantissime di tecniche ragazzi, se qualcuno di voi vuole dare un suggerimento per esempio alla community, ai follower che ci stanno seguendo, scrivetelo nei commenti, perché no, magari andiamo a fare un video di bonus approfondimento in questo corso trading cripto, e andremo a trattare magari anche la vostra strategia per decidere quali cripto sono il the best. Allora, iniziamo subito con il fare una seconda premessa molto importante, la questione legata al progetto. Progetto sì, bello, bello, io credo che possa andare avanti, quindi l'analisi del weight paper, di tutto quello che è dietro la struttura del progetto, chiamiamola analisi fondamentale, tra virgolette, perché nel settore delle criptovalute l'analisi fondamentale è molto complessa da fare, in quanto si svolge sulla lettura di idee ragazzi, più che di dati veri, i dati veri esistono da poco, soltanto quest'anno, il 2022, secondo me si può iniziare veramente a fare un po' di analisi fondamentale, quella vera, quella fatta con i numeri non sulle idee, è però ancora un po' prematuro, quindi ragioniamo su un discorso. E in questo tipo di corso, essendo che noi siamo indirizzati al trading di in breve e medio periodo, non ad un investimento di lunghissimo periodo, per dire 3-5 anni ragazzi, non ha nessun senso andare a leggersi i white paper e la tipologia del progetto. Ha senso invece, quindi la tokenomics ragazzi eccetera, ha senso invece ragionare su che cosa fa il progetto, per distinguere quelli che sono magari eventuali coin da pump and dump, perché truccate tra virgolette per via delle community che fanno sì che magari c'è un lancio su quella criptovaluta ed è tutto diciamo farloco il rialzo magari che può avere, può durare poco, la differenza di che cosa è quella criptovaluta ragazzi, una cosa bitcoin, una cosa dogecoin o shiba no? Sono delle cose differenti. Allora questo ha senso farlo, andare a scendere nei dettagli invece della tokenomics, di tutto quello che è la progettualità, no, perché? Perché questo tipo di operatività ha un orizzonte temporale piccolo, quindi un mese, tre mesi ragazzi, non di più, perciò qualsiasi cosa ci sia scritta all'interno di un white paper, nella tokenomics di un progetto, non ha alcun tipo di rilievo nell'arco di un mese e tre mesi. E questo è ovvio, quindi andare a fare quel tipo di analisi sarebbe assolutamente inutile, fuorviante, riempiremmo di informazioni totalmente fuori logica e non significative per l'obiettivo che stiamo seguendo in questo momento, cioè fare un trading da breve a medio periodo, quindi massimo tre mesi ragazzi, ok? Non di più. Va bene, perciò solo in questo caso non andremo a vedere la tokenomics e per questo motivo non vedremo la tokenomics. Fermo restando che la prima regoletta, che non fa parte delle tre che vi dirò, diciamo questa è la regola, il cappello generale, il cappello parlante, allora questa regola vi dice che andare a fare trading su una coin di cui non si sa proprio nulla non va bene, quindi dobbiamo comunque conoscere la tipologia del progetto e che cosa fa per grandi linee, poi andare a fondo a studiare la tokenomics e tutto quello che sta succedendo non ne vale tanto la pena, anche perché nella scelta della coin andremo poi a eliminare comunque quelle che hanno i famosi trend ad ascensore, quindi quelli che fanno i super pump. Perché ragazzi? Perché le coin che possono fare super pump la strategia per guardarle ve le ho già mostrata nel primo episodio di questa serie, ok? Perciò a quel punto ragazzi andatevi a vedere insomma di nuovo la prima serie che vi metto qui sulla mia testolina. Allora, seconda cosa e poi si parte, quale piattaforma andremo ad utilizzare oggi? Oggi andremo ad utilizzare ragazzi la piattaforma di FTX. Ok ragazzi, allora ci siamo, mi ero perso. Allora eccoci qui ragazzi, allora FTX Questa è la piattaforma che utilizzeremo oggi per andare a vedere le coin e scegliere le criptovalute sul cui fare la tipologia di operazioni anche perché utilizzeremo i futures e non il mercato spot. Proprio perché stiamo parlando di operatività di trading allora preferisco in questo caso andare a utilizzare i futures anche perché ragazzi l'operatività di trading può essere svolta anche in short selling. Magari poi facciamo un piccolo brief sullo short selling proprio in questo corso free perciò andare a limitarci con il mercato spot è vero che si può fare lo short selling con i conti margine ma perché farlo quando la possibilità del future diciamo ci dà un po' più velocità essendo che stiamo facendo trading e non investimenti di lunghissimo periodo non è importantissima la questione del funding anche perché se andiamo a fare magari lo short selling il funding è anche positivo in quel caso per chi sta dall'altra parte. Allora senza dilungarci altrimenti poi vi confondo un po' le idee vi lascio il link in descrizione di FTX perché ragazzi oltre al 5% di sconto in questo caso che FTX dà sulle commissioni dal link che vi lascio in descrizione avete i 10 dollari di regalo quindi appena aprite il conto con FTX link in descrizione vi regalano 10 dollari da spendere per le fee di trading sempre buone ragazzi non è sicuramente una gran cifra ma perché no visto che le regalano prendetele va bene allora link in descrizione allora primo punto per quanto riguarda la scelta del criptovalute dobbiamo utilizzare un indicatore questo indicatore che prediligo è la market cap allora perché bisogna utilizzare la market cap perché andare a prendere delle criptovalute con una market cap differente cambia un po' l'approccio che dovete avere al trading se prendiamo cripto molto piccole con market cap magari da 20 milioni di dollari cioè praticamente minuscole ragazzi significa che quelle criptovalute possono essere estremamente manipolate da chi possiede i token il progetto diciamo il protocollo i team che era sviluppato e tutto il resto quindi andare a prendere delle cripto molto piccole cambia la nostra creatività perciò ragazzi la prima cosa da fare è capire che tipo di capitalizzazione hanno per i neofiti sconsiglio ovviamente di fare questa cosa lo so è di otto perché magari andate a prendere delle cripto che vi fanno più 100% ragazzi però il problema qual è? che se non avete le armi per gestire questa diciamo palla di fuoco gigantesca poi vi bruciate è praticamente sicuro e soprattutto poi si innescano una serie di meccanismi psicologici che vi fanno pensare che siete bravi voi invece in realtà avete avuto solo fortuna e poi andate a sbagliare per due anni di fila quindi da buon paio di famiglia non sono consigli finanziari vi sconsiglio vivamente se siete neofiti di andare a tentare la sorte soprattutto se volete imparare qualcosa quindi questo è un corso ragazzi non è una centro scommesse per imparare diciamo a mettere la scommessa sulla core anche perché ragazzi è meglio studiare un po' e fare profitti per 20 anni piuttosto che tentare di guadagnare facendo scommesse che non ci beccate mai e non fare niente poi dopo 20 anni vi ritrovate allo stesso punto di prima se non peggio magari studiando e imparando delle cose invece cambiate la vostra situazione economica nel lungo periodo che è sempre la cosa più importante va bene quindi prima cosa sceglieremo market cap soltanto abbastanza alte allora andiamo a vedere queste qui ragazzi per esempio che è coin market cap andiamo su coin market cap e ci andiamo a vedere le top 20 le top 20 top 30 ragazzi se vogliamo alcuni di voi potranno dire anche top 50 considerate che le operazioni di marketing di trading ragazzi non cambiano in maniera radicale nel momento in cui andate a scegliere su centinaia e centinaia di coin anche perché stiamo imparando quindi non è una questione legata a al dover in sostanza andare a scovare la gemma questa è un'altra tipologia poi di scelta quindi la prima scelta da fare è andare a ridurre il numero delle criptovalute scegliendo le top diciamo 30 ok facciamo così oltre top 30 non andiamo a prendere altre cripto ok secondo punto per scegliere le cripto tra queste che abbiamo scelto le famose top 30 che vi ho detto bisogna andare a dividere quelle che sono criptovalute che hanno dei grafici che sono in barra di congestione abbastanza frammentati adesso vi faccio vedere e quelle che invece seguono trend ragazzi perché a noi interessa andare a scovare quelle criptovalute che hanno un atteggiamento trend follower che cos'è trend follower significa che quando prendono una strada la mantengono per un tot di tempo mentre ci sono altre cripto così come altri asset finanziari che quando prendono una strada spesso magari la prendono per un paio di giorni addirittura qualche ora poi ritornano indietro poi risalgono di nuovo poi ritornano indietro che sono un pochettino erratiche che hanno questo atteggiamento di natura rumorosa a noi quelle non ci interessano le escludiamo perché perché è un corso basic non ci interessa adesso andare a fare diciamo il dettaglio quindi capitemi ragazzi chi di voi magari ha un'alta formazione già sa quello che sto dicendo quindi andiamo a trovare le coin che sono con un grafico estremamente pulito quando prendono un trend lo seguono e faremo poi la nostra attività di trading su quel tipo di coin ok quindi andiamo adesso su FTX e andiamo a vedere i grafici come si fa a capire se una cripto o uno strumento ha un grafico erratico oppure segue il trend si può fare solo guardando il grafico non c'è altro modo potremmo anche utilizzare un filtro ad esempio delle medie mobili per capire se effettivamente quella coin quel grafico va guardato ma essendo soltanto 30 coin ragazzi ci impiegheremo più o meno una decina di minuti conviene assolutamente guardarle oggi non le guarderemo tutte e vi farò vedere degli esempi sulle coin che sono in un caso diciamo quelle erratiche e quelle invece che seguono il trend poi compito a casa potete farlo direttamente voi allora intanto andiamo su FTX ragazzi all'automarket qui abbiamo i futures ragazzi allora fondamentale tanto app e coin che fa 70 punti vabbè ok giusto per parlare di queste criptovalute così allora andiamo a scegliere per esempio le prime quindi BTC ETH Luna AVAX Solana anche Luna entra nella top 30 se non erro fatemela guardare vediamo se è della top 30 l'abbiamo scelta bene forse è poco poco sotto ragazzi è poco poco sotto vediamo dove sta eccola qui qua top 50 va bene però ha magari un po' di volume in questo momento comunque andiamo a fare il test allora andiamo ad aprirci Bitcoin Perpetual il time frame deve essere posizionato ad un giorno andiamo ad allargare la nostra finestra o semplicemente andiamo a ad avere un grafico più più grande insomma ragazzi per vedere una finestra temporale più lunga in questo caso potete anche utilizzare ovviamente TradingView semplicemente questa di FTX è lo stesso di TradingView in linea di massima ragazzi guardate è Bitcoin come si muove allora Bitcoin quando fa una tipologia di trend solitamente lo mantiene però poi ha anche dei periodi estremamente concitati anche abbastanza lunghi di nulla vedete l'aveva fatto già qui l'ha fatto qui l'ha fatto qui lo sta facendo proprio in questi giorni questi periodi di nulla fanno sì che Bitcoin in linea di massima è una criptovaluta un po' più difficilotta da andare a tradare secondo la regola trend follower perché passa da periodi esplosivi quando segue veramente i trend vi faccio vedere come si vedono i trend ragazzi basta guardarli vedete qui sta seguendo un trend quindi questa è una criptovaluta che solitamente segue un trend per un po' poi si ferma per lunghi periodi vedete abbastanza lunghi quindi la natura di Bitcoin è questa qui tranne quando va poi in bolla come è stato qui per esempio ma queste cose qui le fa una volta ogni tre anni circa quindi cambia un po' radicalmente la questione quindi questa è una cripto discreta ma non il top diciamo per fare queste cose quindi Bitcoin vi ho fatto capire la differenza fra una criptovaluta e un'altra andiamo ad esempio a vedere Luna che è un'altra criptovaluta interessante da questo punto di vista perché Luna a differenza per esempio di Bitcoin è più semplice da questo punto di vista perché è più giovane quindi quasi tutte le criptovalute più giovani in termini proprio di età da quando sono state create sono tendenzialmente più quelle che stiamo cercando quelle che fanno trend vedete in questo caso Luna ha preso un trend e l'ha mantenuto per un po' di tempo anche il trend ribassista l'ha mantenuto ragazzi per un po' vedete in questo caso quando ha preso questa struttura di trend ribassista l'ha mantenuta per un po' di tempo ora ha ripreso questo trend al rialzo l'ha mantenuto per un po' di tempo ora sembra stia ritornando in trend ribassista avete proprio il break oggi di questa media molto importante insomma chi di voi mi segue lo sa da qui in poi potrebbe perché no magari iniziare un trend ribassista fin qui vi ricordo che la scelta delle crypto non è solo su quelle che salgono perché noi stiamo utilizzando i futures quindi potete tranquillamente utilizzare lo short selling in questo caso magari su Luna per magari il mesetto che ci serve per andare a fare profitto perché no visto che stiamo utilizzando appunto FTX che ci permette di fare lo short selling ragazzi è questa cosa è assolutamente fattibile ovviamente poi in base alla nostra strategia andiamo a vedere le più mature come ad esempio Ethereum e Ethereum nel caso di ETH a differenza diciamo di Bitcoin è un po' più simile e scusate è più più simile a Bitcoin a differenza di AVAX però ha una tipologia di trend che sono più spinti di Bitcoin ragazzi guardate qui per esempio quello che ha fatto lo scorso maggio uno poi la correzione uno poi la correzione uno poi la correzione molto cospicua è vero qui si sta un po' imbrigliando però tutti questi trend anche questo rialzista della bolla sono stati tutti buoni da tradare vedete quindi Ethereum entra insieme a Luna ok fatto qualche esempio adesso a questo punto andiamo a vedere lo strumento che dobbiamo utilizzare per fare il calcolo cosa è buono cosa non è buono allora prendiamo Ethereum che stiamo guardando ragazzi allora vi faccio vedere Ethereum perché ok poi ad occhio è tutto bello però poi dobbiamo avere dei dati allora andate qui su TradingView prendete lo strumento che si chiama price range andate a misurare da un punto all'altro questi trend prendete il time frame 1D e dite ok da qui a qui ha fatto 135 punti wow poi da qui a qui al ribasso 33 punti non male poi da qui a qui che era un altro trend al rialzo 70 passapunti i trend razzisti è normale che siano più alti perché partono dal basso ragazzi allora è una questione della struttura della percentuale allora da qui a giù 50% insomma ragazzi vi ho spiegato come si fa come è la regola solitamente io vi do un numero generalizzato sopra 30 punti percentuali queste coin le possiamo mettere e le possiamo portare ricordatevi però che questo tips questo strumento vi fa calcolare le distanze dei trend però poi andate anche a vedere come sono fatti questi trend perché se i trend sono molto frastagliati non va bene quella coin cioè nel caso di ethereum vedete sono molto buoni perché per esempio in questa fase rialzista non è mai andata sotto le medie fino all'inversione stessa cosa qui non è mai andata sotto le medie fino all'inversione già questa fase di bassista c'è questo spike però è accettabile perché è soltanto uno ragazzi ricordate che la perfezione non esiste poi guardate che bella fase di bassista tutta pronunciata è andata benissimo allora vi porto un esempio di una coin frastagliata così riuscite a vederla ragazzi per esempio questa è maker MKR guardate un po' la questione di MKR allora la volatilità qui è molto alta quindi se andiamo a utilizzare il nostro strumento di misura della volatilità probabilmente troviamo dei range che sono diciamo importanti qui abbiamo 100 punti poi andiamo per esempio anche al più piccolo guardate qui 50 punti da qui in giù qui abbiamo altri 34 quindi questa teoricamente dovrebbe essere potrebbe essere utilizzata anche per la nostra attività di trading però cosa succede che è veramente complicata da strutturare perché al di là di questo trend guardate dal giugno dello scorso anno che cosa sta facendo è vero che fa questi trend poi però va giù poi qui vedete si è imbrigata poi è salita ma non troppo poi ritorna indietro adesso fa un trend di bassista ma brecca sempre le medie sale di nuovo sopra quindi cosa succede ok voi lo vedete disegnato sembra facile andare a trattare un trend del genere però in realtà non è così ragazzi perché mi manda i stop di continuo in quanto ogni volta che voi provate a fare questo trend questi rialzi sopra le medie vi sembrano dei fake break e che vi buttano fuori quindi coin di questo tipo è meglio evitarle perché vedete anche dalla struttura del grafico sono dun 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 anche se sono molto molto volatili quindi hanno dei trend molto vasti non è facile salirci sopra perché semplicemente intanto quando salgono salgono a boom tipo ad ascensore e poi quando fanno dei pullback o pull up quindi ritorno un po' indietro per fare i test quasi sempre fanno fake break quindi vi mandano fuori tutte le strategie insomma sono difficili esistono criptovalute più semplici usiamo quelle più semplici quindi questa è la parte operativa ragazzi miscelate un po' il gra lo strumento che vi ho detto quindi il price range di in questo caso su ftx o anche tradingview lo trovate su tutti gli exchange lo trovate e poi andate a guardare però se frastaglia molto perché se ha questi trend poco lineari lasciatela perdere ovviamente i trader più bravi riusciranno anche a stare su questo toro però perché è andare a rendere tutto difficile quando non quando si può rendere un po' tutto più semplice soprattutto se state imparando per la prima volta va bene detto questo passiamo al terzo ultimo tips una volta che noi abbiamo individuato dalla market cap poi dalla tipologia di trend abbiamo visto quelli che fanno trend ampi e soprattutto il più lineare possibile non vi immaginate che ci sia la bacchetta magica perché non esiste questo dovete tenerlo conto quindi un po' sarà la vostra scelta a cambiare un po' quella cripto poi magari c'è quella che vi piace il più avete più familiarità quindi usate quella lì poi abbiamo la questione dell'inversione allora come le scegliamo devono essere criptovalute che stanno formando dei pattern e che cosa sono i pattern andatelo a vedere sulla lezione numero 2 di questo corso che ha trattato appunto un pattern di continuazione l'accumulation range bitcoin cosa sono i pattern sono delle figure che in analisi tecnica si ripetono costantemente con una storicità nel tempo in linea di massima bisogna andare a trovare quelle criptovalute che stanno formando dei pattern di continuazione o di inversione quali sono i pattern di continuazione quali sono i pattern di inversione ragazzi non facciamo il tempo ovviamente a spiegarli tutti è impossibile io ho dato anche diversi tips poi nei miei corsi di formazione il corso basic ha anche tutte quelle che sono le informazioni per scegliere quelli che sono i giusti pattern e soprattutto validare le inversioni di trend perché ci sono delle tecniche per fare la validazione del trend eccetera quindi per sapere quelli giusti e quelli che sono un po' fake ovviamente queste sono tutte tematiche da corso perché sono ore 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 di lezione ragazzi e vanno esplicitate in maniera matematica pure chi poi mi fa le domande il corso è chiuso riaprirà a breve perché lo sto riregistrando ma se mi mandate una mail a info chiocciola trading.it ragazzi poi si può anche accedere comunque con richiesta diretta quindi scrivete lì se volete accedere al corso entro la riapertura che comunque sarà riaperto brevissimo ragazzi quindi strapigo detto questo andiamo a fare una prova quindi ci scegliamo ethereum e vi faccio vedere come andare a vedere una figura potenziale che potrebbe essere creata di inversione o continuazione intanto andiamo a vederla precedentemente ragazzi questa figura che ethereum sta creando allora immaginiamoci di essere nella zona di maggio del 2021 stavamo in pratica su tradando un trend al ribasso poi ovviamente le tecniche di uscita quindi take profit ragazzi sono altra storia però in generale da qui in poi sicuramente sotto le due medie mobili questo trend era ribassista quindi nessuna operazione long poteva essere aperta qui fino all'inversione di trend almeno per chi è trend follower come me è trend is your friend non dimenticatelo mai a questo punto ci serviva una una pattern di inversione perché noi eravamo qui quindi o un pattern di continuazione oppure un pattern di inversione ethereum ne ha fatti due allora ha fatto questo che era un pattern di continuazione del trend una specie di triangolo vedete ragazzi con la impossibilità di andare a fare massimi superiori quindi una barra che chiudesse tutti i massimi e dall'altra parte invece un triangolo di minimi ascendenti questo tipo di figura sono molto belle sono anche molto facili perché il break che avviene di uno di quelle due figure dà il trend successivo al mercato quindi è molto molto semplice andarla a individuare soprattutto in crypto che come vi dicevo hanno queste figure di trend molto delineate questo candela qui o anche questa qui la stessa ragazzi uno delle due dipende come avete disegnato questo trend sono la figura di continuazione quindi qui short di nuovo short di nuovo quindi qua dà un segnale poi qui ovviamente ha fatto doppio minimo quindi si esce in train stop magari non è un trend importantissimo ma è inutile che vi faccio vedere quelli fantastici perché poi magari non ci sono eccetera invece poi andando avanti vi faccio vedere un'altra figura questa è una figura di inversione perché ragazzi qui è un triplo minimo quindi minimo 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 dopodiché abbiamo massimo massimo più basso quindi una struttura classica di massimi discendenti cosa succede al breakout di questo livello è un po' quello che abbiamo visto su rune nel primo modulo di questo corso ragazzi quindi questo breakout è inversione di trend quindi sappiamo che Ethereum ha l'attitudine a fare trend abbastanza lunghi abbiamo la possibilità di entrare di nuovo su un trend su questa criptovaluta che sta invertendo e ha fatto un pattern di inversione disegnato come un triplo minimo con un scusate i miei disegni ragazzi con il mouse sono terribili non riesco a fare le discendenti allora rifaccio così eccolo qui sono riuscito quindi nel momento in cui inverte più o meno in questa zona superando anche le medie questo è un punto di ingresso lungo allora qualcuno di voi sta dicendo eh però diciamo prendi cose no ragazzi è sempre così possiamo anche vederlo per esempio adesso la stessa identica cosa vi faccio vedere nella situazione attuale sappiamo Ethereum essere una cripto che può fare tendenzialmente dei trend abbastanza lineari o almeno fino ad essere stato così se poi dovesse cambiare nel futuro ne prenderemo atto ragazzi però l'analista tecnico si basa su quelli che sono anche i dati passati e poi è sempre una questione non di certezza ma di aleatorietà quindi mi raccomando ricordatevi non sono così finanziari e siamo in trend aleatori allora a questo punto abbiamo una nuova figura che può essere idelineata in due modi purtroppo non è un triplo minimo ma è un triangolo preciso quindi questa figura funge sia da inversione sia da continuazione del trend quindi è molto pericoloso questo momento per Ethereum perché potrebbe breccare la figura al ripasso e continuare il trend ripassista vi ricordo che il trend attuale è ripassista ragazzi quindi non è rialzista perciò nel momento in cui andiamo a verificare questo tipo di discorso dobbiamo anche capire che entrambe le situazioni sono positive allora se brecca il livello di triangolo sopra quindi se questa figura dovesse essere una figura di inversione io attenderei una conferma quantomeno del superamento prima di questo livello quindi i 3.000 e poi anche di questo dei 3.3 se vogliamo la tranquillità diciamo che gli acquisti io li farei qui e qui come inversione dopodiché se invece vogliamo utilizzare uno short selling come figura di continuazione a questo punto basta un break di questo livello e di questo minimo intorno ai 2.250 per continuare questo trend al ribasso quindi abbiamo 1 e 2 punti di ingresso al ribasso in entrambi questi casi abbiamo delineato uno schema una strategia ben definita su 3 punti abbiamo scelto le criptovalute in base alla market cap capendo che siamo fuori dalla questione manipolazione perché abbiamo scelto le top e questo è molto importante attenzione che le top troppo giovani non vanno bene perché magari sono manipolate per un mese ricordatevele queste cose e poi abbiamo scelto quelle che hanno un atteggiamento o trend follower molto pronunciato come le criptovalute che solitamente quando prendono un trend poi lo mantengono per un po' di tempo dopodichè abbiamo dobbiamo andare a definire quelle che sono in una struttura che stanno creando un pattern di inversione o continuazione in questo caso vi ho fatto l'esempio su Ethereum dopodichè attraverso le tecniche di trading per prendere posizioni possiamo decidere di prendere posizioni su queste cripto allora questo è il modo giusto è statistico quantitativo preciso lineare con uno schema non a lancio del dado per scegliere le criptovalute sui quali fare trading e impostare le posizioni poi ci sono mille possibilità diverse da tante creatività perché il trader può farlo in tanti modi diversi può scegliere per esempio di andare a fare del trading su una cripto alla long su un'altra short quindi coprirsi fare tante tante cose però per oggi è tutto vi ho dato una serie di contenuti di enorme valore non li sprecate mi raccomando vi lascio in descrizione vi date una mano con i video se volete testare FETX facciamo un win win 10 dollari anche per voi di bonus sulle fee vi ho detto tutto noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao